Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Dopo gli audio in cui lui parla di sesso a quattro, mandati da Striscia la notizia nella seconda puntata della saga, appena cominciata, del giornalino di Gianbrunasca. Probabilmente non poteva fare altrimenti. Arriva così l'annuncio bomba via social. Giorgia Meloni lascia Andrea Gianbruno, da cui sette anni fa ha avuto la sua unica figlia a Ginevra. Fanno clamore e tanto. Il giornalista pubblicista chiede, a microfoni aperti, a una giovane collaboratrice, tu sei fidanzata? Lei risponde che gli ha già detto di sì. Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Continua. E approfondisce. Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Sei aperturista? Aggiunge. Esplicita il concetto facendo riferimento a un'altra collega. Lo sai che io e Anonimo abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset. Adesso lo sai anche tu. Però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le trisome. Gianbruno sta domandando alla ragazza se fosse disponibile a partecipare a un rapporto a tre. Andrea esagera ancora e prosegue. Anche le Forsum con Anonimo. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare. Andrea diventa scurrile. Parla apertamente di scopare. Tu entrerai a far parte del nostro gruppo? Ma devi darci qualcosa in cambio? Lei chiede. La mia competenza? C'è un test attitudinale. La risposta lascia di stucco. Sì. Si scopa. Gianbruno continua a parlare di sesso qualcuno gli fa notare. Se ti regista striscia poi vedi. Lui. Spavaldo. Replica. Ma che ho detto raga? Dai. Si ride e si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell'Agenzia delle Entrate. C'è chi risponde ironico. Ma se è finita da cinque anni. E accade proprio quello. Il team di Ricci lo becca e i fuori onda provocano un maremoto. Giorgia Meloni all'indomani del polverone sul compagno che fino a pochi giorni fa parlava di nozze con lei sulle pagine di chi, definendosi un cuore gitano, non può proseguire il rapporto con Andrea. La mia relazione con Andrea Gianbruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto, scrive la presidente del consiglio. Grazie. 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 Grazie.